Il sentiero delle Occhette Il sentiero delle Occhette è una passeggiata lungo le sponde del fiume Po che parte da Villa Franca e arriva fino a Cardè e ritorno Il sentiero si snoda tra il fiume Po, campi e coltivazioni di piò Maestra ma questo sentiero è sempre esistito? No caro, lo hanno realizzato gli amici del Po con un duro lavoro e lo mantengono in ordine è lungo circa 12 chilometri Maestra ma chi sono questi amici del Po? Sono un'associazione di Villa Franca nata 40 anni fa che organizza delle manifestazioni sportive ed ecologiche incentrate sul fiume Questo è il traghetto che è andato in pensione nel 1884 quando è stato costruito il ponte Maestra ma quante tipologie di imbarcazioni ci sono sul Po? L'imbarcazione storica era la barca a punta lunga, 8 metri e veniva utilizzata per il lavoro Oggi invece ci sono barche più moderne come i kayak, i gommoni e le canoe Oggi c'è qualcuno che fa il suo lavoro pulisce il fiume e grazie agli amici del Po e al loro lavoro di sensibilizzazione. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti!